Buongiorno a tutti qua, iniziamo subito, iniziamo subito, anzi, prima chiamiamo lei, chiamiamo lei, signori, per voi la balletta! Buongiorno a tutti! Oggi invece faremo, indovina la carzoncina, però attenzione prego, attenzione prego, le carzoncine da dominare sono quelle lì, la cartellina, ci sono tante canzoni molto belle, sono sul tema, aveva una cartellina no? Il tema, ce ne sono tante, tante, una cartellina, ci sono tante canzoni, io vedo, la so io, il tema delle canzoni è, allora, aveva una cartellina con le gialle no? Cartoni animati, aspettate, aspettate, però, però, quelli dei suoi tempi, non scherzo, dai, no, 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 tipo, tipo, fammi sentire uno, fammi sentire uno, tipo, eh! Stop, stop, dimmi! Eh, mai uno è sempre, non so, meno uno, fatte l'esempio, non vedi? Fatte l'esempio, ecco la qui, eccola qui, senti domani? Ehm, diciamo, giugina trotto, quello famosissimo, quello è molto bravo, dice, spari, che ti, no? No, no, come no? Quelli erano otti? Eh, meno uno, quindi ci siamo, ragazzi, il consentire è sempre quello, eh! E, spatume, fatelo bello fonte, e se ce lo fate, partite dai propri dati, così. Spartume! Io non più che io vedo la maniera, lo vedo, vediamo, prova, bravo, bravo, così, te, un, tre, voi, voi ci giochiamo, sotto la pennaia cerrate, bravo, etto, etto, etto...